una buona giornata ed un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Gianna Attasio sulla A1 per traffico intenso code a tratti tra Firenze Nord e Barberino in direzione Bologna sulla A12 per lavori code a tratti tra il Bivio di Viareggio e Versilia in direzione Genova sulla FIPILI ancora per lavori rallentamenti tra Empoli Ovest e San Miniato in direzione Mare chiusa l'uscita di Livorno Aurelia in direzione Firenze fino alle 18 per lavori sul raccordo Siena Bettolle per lavori restringimento di carreggiata all'altezza di Castelnuovo Berardenga chiuso in entrata e uscita lo svincolo di Colonna del Grillo in direzione Siena sulla Statale 1 Aurelia per lavori chiuso lo svincolo la California Cecina Sud tra Cecina e Bibbona in ingresso e uscita in direzione Grosseto Puoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana città metropolitana e comune di Firenze vi auguriamo un buon viaggio